parola d'ordine ripartire o se meglio preferite vietato sbagliare dallo stadio ferruccio di seregno un caloroso buon pomeriggio amici di serie ctv su leve sports d'alex mariani si affrontano in questo match il san giuliano city e la virtus verona due squadre riduci da momenti non c'è dare ordine alla scuola di verona fabbro lascia scorrere il duello perso con bruzzone pallone indietro di rigore attenzione a danti se rimetto ed è il vantaggio della virtus con zarpellon al minuto terzo qui c'è stata una clavorosa ingenuità difensiva della san giuliano city che regala un pallone alla corrente zarpellon guidetti folle lo scatto di raddoppiato salta secco l'avversario faedo con la pedone carica al destro della distanza ha provato la conclusione ha trovato lo spazio gli applausi del pubblico si sgancia zanon bruzzone se ne va ancora fusi è scatenato fusi velocissimo allarga gioco keros carica kerosch e trova il gran gol del pareggio kerosch pedone conclusione della distanza con la parata in calcio d'angolo di selio assaggio di guidetti ancora di keros scusate keros con la bontà della palla che passa e poi c'è il valpare il vantaggio vantaggio del san giuliano city annullato per fuorigioco di cogliati annullato il gol per fuorigioco di cogliati le proteste ai giocatori del san giuliano bravo kerosch se ne va sulla destra resiste all'attacco dell'avversario poi folle mette in mezzo l'uscita di saldo poi la sponda testa di miracoli folle palo palo di folle scatta folle cross di folle di testa lo stacco poi cogliati sotto misura non trova il pallone che gli è capitato dopo lo stacco di miracoli nel cuore del rigore la palla è terminata sui piedi ma dietro scolo ha rimessa kerosch folle aria di rigore folle carica al destra la parata di siu sottostituisce numero 6 prunzione con il numero 29 pascali prossima l'area di rigore di testa e sfiora clamorosamente il vantaggio serbuti zugaro cross basso miracoli controlla l'area di rigore miracoli miracoli tiro murato ancora miracoli con l'esterno poi la parata di siulias ancora cross a giallo city miracoli ancora una parata incredibile una parata incredibile di miracoli sponda con kero ma finisce qui 1 a 1 tra san giugliano city e virtus verona secondo tempo secondo tempo combattuto con la san giugliano city che i punti avrebbe meritato il vantaggio ma l'avendo sverona di fresca ha saputo resistere difendersi con grande ordine